Atlas 4 ti permette di arricchire la visita ai luoghi con immagini di come erano prima, eventi che sono accaduti, particolari che non noti alla prima occhiata, film che hanno girato qui. È facilissimo da usare, si apre di default sul luogo dove sei, mostra la tua posizione grazie ad un puntatore e ti fa vedere i punti di interesse, poi, intorno a te. Cliccando sull'icona del punto di interesse si apre una scheda che lo racconta per immagini. Le puoi vedere in sequenza o scegliendo quella che ti interessa, il contesto intorno, la storia, i particolari. Atlas 4 ti permette, tramite la sezione in evidenza, di selezionare degli itinerari. Ad esempio, clicca su Torino itinerari del centro e avrai una selezione organizzata che ti accompagnerà per il centro di Torino. Se invece vuoi selezionare un'area o un luogo specifico, apri il menu Territori e scegli la regione, il comune o addirittura il poi che ti interessa.